Sull'asfalto, in corrispondenza delle strisce pedonali, la scritta Libertà, letta come un'anonima difesa della maestra della scuola elementare Giovanni XXIII, negazionista del Covid, secondo le famiglie degli alunni, scese in strada a protestare. Da quel giorno l'insegnante in classe non è più tornata e i genitori non danno troppo peso al fatto che qualcuno prenda le sue parti. La cosa non mi preoccupa minimamente, anzi possiamo dire che sono apparse anche da altre parti, quindi direi proprio che possiamo anche tranquillare, forse minimizzare la cosa, quindi ormai abbiamo già fatto abbastanza, basta. Ma l'iter per approfondire ed eventualmente sanzionare la condotta della maestra va avanti, come conferma il prefetto Laganà, che ha ricevuto dalla scuola una ricostruzione scritta dell'accaduto. È arrivata la relazione proprio ieri, devo dire l'ho letta, insomma visto le tante cose che sono sul tavolo questa era meno urgente, ma beh il prestito mi ha da un lato detto che la signora è in malattia fino ad oggi, quindi poi sono le ferie, quindi che hanno avviato degli approfondimenti e anche eventualmente scatteranno dei proventi disciplinari, questo mi pare di aver capito. Fin dall'inizio devo dire che questa signora è stata assunta credo a novembre, sono palesate queste sue difficoltà, insomma, da rispettare le disposizioni, anche con la presentazione di certificati medici. Rimane, dice, la perplessità sulla mancata segnalazione da parte della scuola di quanto stava avvenendo. Non so se la tempistica, da quando il problema si è manifestato e a tutti i vari contatti e interlocuzioni che ci sono state con la maestra, abbiano seguito quella tempestività che forse sarebbe stata necessaria per evitare che le mamme si allarmassero e dovessero arrivare a scuola, quindi dando anche l'idea di una scuola che si è disinteressata del problema quando in realtà era già stato attenzionato. Ecco, bisogna dare atto di questo.